Ringrazio il Signore per quello che ho sentito, c'era la riunione di preghiera della Chiesa e sono arrivato durante il pensiero di Kevin, Dio ti benedica, mi è piaciuto, dammi il tuo cuore, mi è piaciuto Antonio, Dio ti benedica veramente, mi è piaciuto tutto, me li sono fatto mandare direttamente questo figlio, discepolo, sacerdote, guerriero, governatore e padre e ho mandato questo titolo alla meditazione, non è una retorica o una forzatura perché io credo e so con certezza che ti sia fatto secondo la tua santissima fede, non ti conosco, non so dove stai, non so cosa stai passando ma io so che colui che ha fatto la promessa e fedele a mantenerla. Io avevo mandato questo titolo in questa sera, la battaglia è stata vinta, non più vergogna né paura, che il Signore possa aiutare in questo tempo, come, che cosa sto, cosa voglio trasferirvi in questa sera, ancora parola, ancora, no 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 no, io voglio darvi qualcosa che ha a che fare con la persona, il Signore Gesù, Gesù non è una religione, il nostro Dio non è un qualcosa contenuto nella religione, no no no, Dio non ha bisogno di religione, Dio vuole una relazione personale e vi voglio portare in questi tre capitoli ma molto velocemente, alcuni versetti che hanno a che fare con quello che Domenico ha condiviso anche nella nostra Chiesa, il patto, il patto, il nuovo patto e il vecchio patto, noi li chiamiamo il vecchio testamento e il nuovo testamento, ma il testamento è qualcosa che si inisca quando qualcuno, quando qualcuno, qualcuno muore, in in ebraico era il patto, il nostro Dio è il Dio del patto, ha fatto un patto con Noè, ha fatto un patto con Mose, ha fatto un patto con Abramo, ha fatto un patto con Davide e noi siamo quelli del nuovo patto e mi piace quello che ho sentito in precedenza, ma vogliamo andare in questi versetti di Saia, capitoli 52, 53 e 54, ti invito a leggerlo con calma, questa sera quando finisce, leggi questi versetti, sono tutte parole profetiche riguardo al Signore Gesù e a tutto quello che si innesca da lui in poi, allora il problema di Saia è duro, come Gerenia, come i profeti sono duri perché hanno a cuore la parola di Dio, Dio stesso rispetto alla condizione del popolo, c'è questo batticuore, questo dolore, nell'Antico Testamento, nell'Antico Testamento, nel nuovo patto vi spiegherò fra un attimo. Allora, perché, dice Isaia in altre parole, perché i sacerdoti non dicono chi sono io? Perché non presentano al popolo la mia persona? Chi? Dio stesso che sta parlando. Io, ecco perché è importante, anni fa l'ho fatto e penso che ancora vengono trasmessi qui, Dio ha 72 nomi particolari, unici, alcuni nomi sono veramente, per rispetto, bisogna lasciarli, ma tutti gli altri, tutti sono nomi che hanno a che fare con il suo carattere, con la sua natura, con chi è dalla Genesi fino all'Apocalisse, perché Gesù è venuto gloriosamente a mostrare il Padre. Quello che ha fatto Gesù è nel carattere o nel nome di Dio. Perciò nel versetto 6 di 52 è scritto, perciò il mio popolo conoscerà il mio nome, perciò saprà in quel giorno che sono, io ho parlato, eccomi, il cuore di Dio è, io ci sono, io non sono un tuo nemico, nel vecchio testamento, come nel nuovo, Dio non cambia, Dio è lo stesso ieri, oggi, in eterno, Gesù Cristo è lo stesso, è come il Padre e come lo Spirito, sono uguali quello che è il passato, è il presente e il futuro. Bisogna conoscere i nomi di Dio e i nomi di Dio sono qualcosa di particolare. Come può qualcuno, se tu sai di qualcuno che dice questa eresia, che Dio del Vecchio Testamento è differente da Gesù, dirgli che è una bugia, perché il Dio che si presenta sul palcoscenico del pianeta è il Signore Gesù, Lui è la parola. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo gloriosi da Genesi 1.1 c'è questa intensa, gloriosa, appassionante e passionale manifestazione di Dio e l'umanità che fa lo bessegna per colpa tua. Ho sentito che qualcuno stava evangelizzando una parola in una fila alla cassiera di un supermercato, e se ci fosse Dio, ma quante gliene dico? Che cosa stiamo dicendo? Dio ama! Dio è amore! Dall'inizio, la cosa che viene sempre messa, che i nostri sbagli hanno delle conseguenze e solo l'amore di Dio può cambiare il nostro passato, presente e futuro, ma le reazioni purtroppo per colpa mia, per colpa nostra, per colpa dell'uomo esistono tutte queste cose uniche e particolari. Il mio popolo conoscerà il mio nome. Potrei andare a memoria. Il suo nome qual è? L'Eterno che santifica. In Gesù, Lui è la mia santificazione. Nell'Antico Testamento, Dio stesso vuole Israele in sé stesso per santificarlo, ma non esseriormente. Metterti da parte, metterlo da parte in sé, perché Israele doveva essere la luce di Dio in quelle nazioni. Io sono l'Eterno che provvedo, l'ha detta da bravo. Io sono quella gloriosa realtà che quando tu mi invochi con il cuore, io sono presente. Uno dei nomi, non so se l'ho detto, che mi fa impazzire, è Yahweh e Shammah. Come Lui è qui, in questo momento, in questa stanza, Lui è lì, dovunque tu stai. C'hai un cuore dolorante. Dio è vicino a te. Dagli il tuo cuore in questa sera. Daglielo con tutta la tua passione. Se tu sei arrivato fino a questo punto è solo per la sua gloriosa grazia. Ma dagli il tuo cuore. E poi qual è un altro nome di Dio. Dio degli eserciti. Shabbat. Yahweh Shabbat. Lui vuole combattere per te. Lui vuole prendere la tua vita e metterla radicata nella rocca eterna. La gloriosa realtà o il glorioso lavoro del nostro Signore. È un lavoro che parte prima della nostra nascita e arriverà fin dopo. quando non ci saremo più su questa terra perché Lui è l'Eterno glorioso. Versetto 7. Quanto, sempre 52. Quanto trobelli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie che annuncia la pace. Chiaraldo di notizie liete che annuncia la salvezza che dice a Sion il tuo Dio regna. e bisogna farlo neanche nella chiesa. A volte ci siamo... Kevin ha detto una cosa. Simone ho qualcosa da dirti. Dio non usa le prove, le tribolazioni. Non è come papà mio o come i nostri padri, no? O come le nostre mamme. Vi è qua, bella di mamma. Non te faccio niente. A Roma, perdonate il mio francesismo romano. Ma Dio, per il credente, usa la parola. Non l'ho detto. Se possiamo aprirla in secondo Timoteo, capitolo 3, versetto 16. È un versetto particolare. Dio non è il nostro nemico. È il nostro libro. Ogni scrittura è ispirata da Dio. È utile a sottolineare questi verbi, a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Se tu sei figlio, questa è la nostra educazione, la nostra istruzione. Se tu sei un guerriero, è la parola dello spirito che prima a me. Devi tagliare. Prima a me. E poi essere usato sempre, verità con carità. Il sacerdote è la scrittura, è la parola che mi mette la parola giusta al momento giusto per gli altri. Questo sacerdotio reale. Il tuo Dio regna. I fratelli e sorelle. Amici, se sei qui per la prima volta, Dio sta regnando. Dio sta regnando intorno. E tutto quello che accade non è per colpa sua. Tutto quello che accade è colpa dell'uomo. Dio ha dato all'uomo il dominio. E lui sta consumando questa nostra creazione. Lui sta calpestando i diritti dei più silenziosi, dei più accantonati e messi da parte. Ma io devo ricordare che Dio regna. ecco, venga il tuo regno. Dove, Signore? Nel mio cuore. Dammi il tuo cuore. Perché solo là, nell'unione fra spirito e anima, c'è la realtà gloriosa che Dio vuole da ciascuno di noi. Versetto 10, 52, 10. Il Signore è rivelato il suo braccio santo agli occhi di tutte le nazioni. Tutte le estremità della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Versetto 14. Come molti, vedendolo, sono rimasti sbigottiti. Quanto era, tanto era disfatto il suo sembiante al punto di non sembrare più un uomo e il suo aspetto al punto di non sembrare più un figlio d'uomo. Se noi possiamo parlare di grazia è perché lui ha pagato il prezzo. Lui è stato sfigurato. La tortura romana prima della crocifizione era incredibile. Quella coda, quella frussa che aveva alla fine dei pezzi di osso, dei pezzi di ferro e quella frusta arato il torso, la schiena del mio Signore. Oh, benedetto il Dio, che lui non meritava quella sofferenza. Io la meritavo. Ciascuno di noi meritava quella situazione, ma per amore lui ha passato in quella particolarità. Il mio popolo conoscerà il mio nome. Il capitolo 53 è un inno d'amore. È qualcosa che quando lo leggo veramente mi compunge il cuore. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? A chi è stato rivelato in braccio del Signore? Egli è cresciuto davanti a lui come pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Dispressato è abbandonato dagli uomini. Uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era streggiato e noi non ne facevamo stima alcuna. Tuttavia, erano le nostre malattie che gli portava. Erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi non li venivamo colpito, percorso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue libidure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore. Ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Perché in questa sera sto dicendo che la battaglia è stata vinta e io e te non dobbiamo più vergognarci né avere paura. Lo sapete perché? Perché il patto glorioso è fatto fra il padre e il figlio. E lo leggiamo in Isaia 54, il versetto 10. E vi dirò anche come si chiama. Anche se i monti si allontanassero e i colli fossero smossi, l'amore mio non si allontanerà da te. Nel mio patto di pace sarà rimosso, dice il Signore, che ha pietà di te. Io posso basarmi su questa realtà che la battaglia è stata vinta per questo patto, patto di pace. E l'onnipotente dice, dice il Signore, che ha pietà di te. Io ringrazio con cuore grado perché lui ha avuto pietà di me. Lui sta avendo pietà in questo momento. In questo momento che il nome di Gesù sta salvando, sta salvando, sta benedicendo, sta battezzando, sta liberando, sta creando tutto quello che è il Regno di Dio dai cieli sulla terra. Allora in questa sera, non so dove tu ti trovi, ho ricevuto qualche contatto, qualche messaggetto. Sto perdendo la fede. Prega per me. Ti prego, non perdere la fede. Lo sai? Cosa serve a rinnovare la fede? Romani 12.2. Rinnova la tua mente giorno dopo giorno. Il discepolo, il discepolo, la croce di cui Gesù fa riferimento. Non è una croce fisica. È una croce, è un lavoro, è un'opera mia, guidata dal suo spirito, a stabilire il suo modo di essere, di pensare nel mio cuore. In questo tempo, amici, fratelli e sorelle, in questo tempo, l'unica cosa che noi possiamo fare è avere questo equilibrio nella nostra vita. Tappiamoci le orecchie. Veramente, lo dico come un fratello o maggiore o minore. Chiudiamo le orecchie. Tutta la narrativa che sentiamo. Tutto. Non entro nel merito. Tutto quanto. Parlami del Signore. Io metto da parte la mattina, quando posso, tempo dove fermo tutto. Fermo tutto perché tu mi devi parlare. È questa la gloriosa realtà che io e te possa avere nella grazia, in questo patto di pace. È glorioso. Io l'ha letto Antonio, quel pezzetto con cui ho iniziato la mia meditazione domenica. Senza di me. L'ha detto Gesù. Non potete far nulla. Io in voi e voi in me. È questo il rapporto. È questa. In questo tempo. A parte che è stato sempre così. Abbiamo pensato. Sto parlando io come predicatore. Nel tempo, prima di questa, di questi due anni particolari. Ho predicato di tutto. Non sono stato attento. Nessuno di noi è stato attento. Perché nessuno di noi ha sullato la tromba. Attenzione a quello che sta per accadere. Non viviamo con la paura. Perché in te, l'amore perfetto, hai cacciato via la paura. Allora, in questa sera, voglio pregare proprio con questa gloriosa intenzione. La battaglia è stata vinta. E lo sapete dove devi scoccare questa scintilla di realtà? Nel tuo cuore, non nel cervello. Perché qua possiamo, la nostra mente che ti gira. Ferma. Ferma la mente. Se Dio ha detto, se Gesù ha detto che io sarò con voi ogni tempo fino alla fine dell'età presente, io ci credo. Punto. Non mi interessano altri correnti, altri modi di pensare. No, no, no. Che cosa dice il mio Signore? Dice, venite a me voi, tutti che siete travagliati e aggravati, io vi darò riposto. Io ci credo. Punto. Che cosa dice il mio Signore? Per le sue lividure. Se Gesù direbbe questa frase è così. Per i miei lividure voi avete ricevuto guarigione. Allora, chi l'ha detto? Pinco Pallino? Non ci credo. Posso pure non credere. L'ha detto il Signore Gesù. L'ha detto un profeta guidato dallo Spirito Santo. È stato ripetuto nel Nuovo Testamento questo versetto. L'ha detto Pietro. Io credo in quello che Dio dice a ciascuno di noi. A me. Allora, le promesse. Io le do a memoria, fratello Grebbe. Passoni, crociani. No, 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 no. Fin quando quella promessa non si manifesta, non si concretizza, non prende vita nel tuo cuore, è chiacchiera. Io prendo e credo e vedo quello di cui ho una ferma, vi ricordate Abramo? Pienamente convinto. Ci ha messo 25 anni, eh? Dalla promessa alla nascita. Ma pienamente convinto. E in questa sera io ti prego, chiedi al Signore, chiedi allo Spirito Santo e ricerca il Battesimo dell'Ottio Santo. Non è un bla bla bla, un balbettio. No, 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 no. La guida del suo Spirito è una guida intenzionale. Intenzionale. Tu puoi fare cose gloriose. Voglio pregare per te. Io non so dove stai, ma io conosco chi è la risposta. Lo conosco personalmente. È un amico mio. O meglio, sono un suo amico. Nonostante tutto, Abramo, amico di Dio, che il Signore possa aiutarvi. Se volete, nel mio canale YouTube, basta che cercate Gabriele Cruciani senza problemi, ci sono questi studi sul nome di Dio. Nome di Dio che ha a che fare con la natura del Signore Gesù. Gesù è venuto a manifestare, a vivere per o facendo vedere l'invisibile Dio. La stessa cosa di ciascuno di noi. Io e te siamo la bocca e le mani del nostro Signore e noi dobbiamo far funzionare. Domani saremo, domattina andremo e ringrazio il Signore per il calendario. Proprio ne abbiamo capire se stanno e voglio che possano aumentare. Domani andremo in due quartieri a Roma, proprio con questo domani mattina. Pregate per noi. Durante la predicazione, pregate per me. Proprio con questo gruppo di fratelli e sorelle andiamo per le strade con questo calendario. Perché? Perché l'avanzamento del Regno è un nostro compito. dicevoli fanno, guerrieri combattono, padri generano. E io credo fermamente questo qua, che tutta la battaglia è stata vinta. Tu non devi essere più coperto di vergogna perché chi è in te ha vinto il mondo. Tu non devi avere più paura perché colui che è in te ha fatto di tutti i demoni, del bugiardo, di Satana, un pubblico spettacolo. Prendi vittoria, portano nel tuo cuore. Inizia ad essere intenzionale nel nostro servizio al Signore. E voglio pregare. Signore, in questo momento la parola è stata data. Grazie per i fratelli che mi hanno preceduto. Grazie per ogni parola. Perché quando c'è la tua parola, è qualcosa che esula dal nostro modo di essere e di pensare. Signore, la tua parola è l'Evangelo. E l'Evangelo è la buona novella. E l'Evangelo è qualcosa che ha a che fare con la tua persona. Signore, non sono chiacchiere, non sono discorsi motivazionali, non sono discorsi di autodeterminazione. No, 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 no. Si sta parlando di te, del tuo essere, di quello che tu vuoi. E tu sei dei canali umani. E noi ti ringraziamo di questa opportunità. Ma, ma, è il tuo messaggio che deve arrivare all'estremità della Terra. Vuole tu benedire grandemente chi sta ascoltando in questo momento. Signore, fatti vedere. Esattamente come ti sei fatto conoscere da milioni di persone, in ogni tempo, in ogni luogo. Qualsiasi peso si stanno portando o viene portato. Io so, io so, che tu sei colui che non schiacci, anzi, ciliarsi. Tu ci dai un valore, mentre il bugiardo ci calpessa. Tu hai dato a noi un nome nuovo, nuovo. Per il bugiardo siamo tutti abbassati fino alla morte. Signore, io ti ringrazio di questa sera. Grazie di questa opportunità. Voglio tu benedire grandemente il fratello Cattaro, signore. Come Jonathan, come Matteo, ma Marco. Tutto il team di Parole di Vida. Tutti quanti. I due Micheli, il Mariano. Tutti quanti. Perché, in fin dei conti, si sta lavorando per l'avanzamento del tuo regno. Signore, Parole di Vida. Un faro nella notte. Signore, una bussola che indica solo una direzione. Grazie per il fratello Narducci, per Antonio, per Kevin, questa sera. Ma grazie a te che l'Evangelo non si vede. Va avanti, va avanti. In maniera rutilante, in maniera gloriosa. E noi vogliamo fare la tua volontà. Resta con noi. E umilmente. Ogni cosa. Ma come figli. Perché tu a noi hai dato il diritto di sederci alla tua tavola, che è imbandita. È al cospetto dei nemici. Ma non ci spaventa. Perché tu sei con noi. Resta con ciascuno di noi. Con chiunque invoca il tuo nome. Con chiunque sta a sospetto. Un tervelo, signore. Faccelo vedere prima nel nostro cuore. Perché solo così si innesca il miracolo. Grazie per ogni cosa. Nel nome di Gesù nostro e Dio. Benedetti e eterni.